Musica Musica Ladri Nazioni sul territorio in un'autocarrozzeria ad Aulette presso un ripetitore radiofonico a San Rufo Sala Consilina l'onorevole De Luca il coordinatore provinciale del PD Luciano incontrano gli amministratori e i militanti del ballo di Viano Sant'Arsenio nuova convenzione per la valorizzazione di Borgo Serrone Sala Consilina il comune delibera l'adozione della carta dei diritti della bambina Sala Consilina ieri la consegna del premio Pino Paladino Buonasera e bentrovati al nostro telegiornale apriamo con la cronaca Ladri Nazioni la scorsa notte ad Aulette da un'autocarrozzeria in Contrada Ponte rubata attrezzatura per 20.000 euro sul posto i carabinieri per i rilievi del caso vediamo i dettagli nel servizio di Giuseppio Promolla furto all'interno di un'autocarrozzeria da Auletta la scorsa notte i ladri sono entrati in azione e dopo aver sfondato il cancello d'ingresso hanno rubato all'interno l'attrezzatura utilizzata per la riparazione dei veicoli un'azione rapida e violenta con i malviventi che hanno tentato anche di rubare una vettura la quale però è stata abbandonata poche centinaia di metri dopo a lanciare l'allarme è stato uno dei figli del titolare che intorno alle 5.30 mentre si recava a Polla per il lavoro passando per l'officina ha visto il cancello d'ingresso di Velto subito avvisati i carabinieri della compagnia di sala consiglina che si sono recati sul posto un danno quantificabile approssimativamente intorno ai 20.000 euro secondo le prime informazioni sembrerebbe che i ladri siano entrati in azione intorno alle 4 del mattino un vicino avrebbe confermato di aver sentito un forte rumore a quell'ora inoltre sembra che uno dei malviventi si sia fatto male e abbia utilizzato il kit medico presente per curarsi la ferita in più i militari hanno effettuato i rilievi sulla vettura che hanno tentato di rubare ma non vi sono riusciti per cercare impronte e indizie per risalire alle loro identità dopo i furti all'interno delle abitazioni delle scorse settimane prosegue dunque l'escalation di attività criminose sul territorio di Auletta ladri in azione anche a San Rufo si sono introdotti all'interno di una struttura al servizio di un ripetitore radiofonico hanno portato via attrezzature elettroniche per svariate migliaia di euro ci sono stati problemi nella ricezione di diverse emittenti radiofoniche vediamo i dettagli con Anna Maria Cava non si arresta l'ondata di furti nel territorio creando anche clima di tensione e di scarsa sicurezza per un'area che negli anni è sempre stata considerata tranquilla e lontana dalle realtà dove l'illegalità è diffusa si continua infatti a registrare casi di furti che interessano prevalentemente i privati come l'ultimo verificatosi a San Rufo e che ha avuto ripercussioni su tutto il territorio avendo colpito un'azienda la media group che gestisce apparati ricetrasmittenti e ripetitori radio impedendo così la trasmissione del segnale radio per diversi emittenti la notte scorsa intorno alle 22.30 in località Tempa di San Rufo malviventi si sono introdotti nella struttura dei ripetitori di proprietà della media group impossessandosi di numerose apparecchiature elettroniche in esse custodite per un valore di diverse migliaia di euro si tratta dell'ennesimo caso di furto in pochi giorni avvenuto in provincia di Salerno e ai danni di emittenti irradianti nei giorni scorsi infatti i ladri avevano colpito anche l'emittente radiofonica di Palomonte sono in corso le indagini da parte dei carabinieri allertati dei tecnici che erano giunti sul posto ed hanno trovato la porta della struttura di Velta constatando la mancanza delle numerose apparecchiature peraltro particolarmente costose negli ultimi tempi oltre a registrare un'impennata dei furti in generale risultano in deciso aumento anche i casi di furti di apparecchiature elettroniche la campagna, spiegano i responsabili della società che gestisce gli apparati ricetrasmittenti è una delle zone più colpite sono apparecchiature specifiche e appositamente dedicate che non hanno alcun interesse per il mercato se non per quello delle stesse emittenti a causa del furto si sono registrati problemi nella ricezione di emittenti radiofoniche i quali Radio Latte e Miele, Radio Italia Anni 60, Radio Azzurra, Radio Balla Balla, Radio Movida, Radio Color, Radio Carina e continuiamo con la cronaca la Guardia di Finanza di Vallo della Lucania ha sequestrato beni per 100.000 euro ad una sedicente maga a conclusione delle attività di indagine della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania il Tribunale Vallese su disposizione della Procura della Repubblica ha disposto il sequestro preventivo di beni e somme di denaro per 100.000 euro ad una sedicente maga di Capaccio Pestum la maga, approfittando della buona fede di una signora dell'agropolese si era fatta consegnare 100.000 euro finiti poi sul conto corrente personale e quello dei figli l'attività investigativa portata avanti dai militari della Compagnia di Agropoli ha portato a questa scoperta in particolare le Fiamme Gialle hanno accertato che la maga aveva convinto la donna che la famiglia era stata oggetto di fatture malocchio e altri fenomeni paranormali che avrebbero portato all'imminente morte del figlio da cui la donna ha consegnato il denaro scoperto tutto la Guardia di Finanza ha sequestrato su disposizione della magistratura un appartamento, conti correnti e polizze intestate all'interno del nucleo familiare della sedicente maga Passiamo alla politica questa mattina a Sala Consilina presso il Polo Culturale Cappuccini il Partito Democratico Locale si è confrontato con l'Onorevole Piero De Luca il segretario provinciale del partito Vincenzo Luciano un incontro incentrato sull'importanza dei territori e sul ruolo che gli amministratori locali rivestono nella politica essendo loro i più prossimi alle esigenze della gente devono esserne i portavoce e i primi a dare risposte in particolare il coordinatore territoriale Domenico Cartolano nel suo intervento ha sottolineato che il crollo del PD a parer suo è stato provocato proprio dalla scarsa attenzione manifestata nei confronti delle esigenze della gente maggiore quella invece riservata ai poteri forti ma ascoltiamo le interviste realizzate oggi Dopo la sonora sconvitta del 4 marzo che non ha avuto precedenti perché la più grande sconvitta del partito democratico della Margherita cioè non ricordiamo una sconvitta così forte bisogna ripartire si è deciso con la segreteria provinciale di partire con gli amministratori partire con gli amministratori di andare a creare di dare come dire ossigeno a questo partito il partito democratico deve partire dal basso da dove è nato oggi ci identificano come la radical chic come il partito dei salotti la sinistra dei salotti dei poteri forti delle banche di quant'altro allora partiamo dal basso cerchiamo di essere umili con propositivi opposizione netta forte noi dobbiamo prendere il contratto che hanno sottoscritto gli amici che governano che è giusto che governino e essere puntuali e chiedere il conto dove loro sono manchevoli dobbiamo portarci il conto ma nei tavoli della politica e incontrare la gente se noi non torniamo ad essere tra virgolette umili il partito democratico le prossime elezioni una scadenza importante l'anno prossima sarà ancora di meno degli amministratori lungi da me dare particolari suggerimenti io credo che dovremmo davvero essere in grado noi a livello politico nazionale di sostenere gli amministratori loro non hanno fatto particolari anzi nessun tipo di errore si sono trovati a subire una crisi anche economica finanziaria nazionale che ha portato purtroppo a subire dei tagli di bilancio a livello dallo Stato sia alle amministrazioni locali che quella provinciale l'amministrazione provinciale per cui abbiamo davvero vissuto una fase particolarmente complessa e complicata nella quale abbiamo dovuto al fronte alle stesse esigenze a parte dei cittadini penso la provincia in rapporto alla gestione alla manutenzione delle scuole delle strade alla gestione dei musei provinciali con risorse però profondamente ridotte rispetto al passato dovremmo essere in grado quindi di sostenere sempre più i nostri amministratori ma tornare ad essere accanto alle famiglie ascoltare essere vicini saper raccogliere le problematiche comprenderle e provare a dare risposte serie e concrete perché le famiglie hanno bisogno di avere delle risposte da parte della politica una politica che sia davvero al servizio delle loro istanze delle loro problematiche ripartire proprio dai territori ripartire dal confronto con gli amministratori che poi sono la nostra certezza diciamo queste ultime elezioni amministrative subito dopo le politiche hanno dimostrato un'inversione di tendenza ma più che un'inversione di tendenza hanno dimostrato che quando nelle competizioni locali amministrative vale il peso e le capacità degli amministratori il Partito Democratico vince quindi su 19 comuni alle scorse amministrative solo 3 sono state vinte dal centro-destra in due comuni importanti Campagna superiore ai 15.000 abitanti Campagna e Ponte Cagnano a Ponte Cagnano il centro-sinistra va al ballottaggio con 13 punti percentuali sopra il candidato del centro-destra il Partito Democratico è il primo partito risulta essere il primo partito a Ponte Cagnano Faiano cioè riesce a dimostrare che quando la proposta dei nostri amministratori è valida quindi lei diceva quali sono le nostre certezze da dove ripartire ripartire dagli amministratori che sono la nostra certezza sulla certezza del Partito Democratico perché i nostri amministratori hanno dato prova di saper lavorare di lavorare bene di riuscire a risolvere per quel po' che possono fare le problematiche dei territori e trasformare la realtà che poi è il compito degli amministratori Un altro importante passo verso la promozione e la valorizzazione turistica di Borgo Serrone a Sant'Arsenio il sindaco Donato Pica ha annunciato la sottoscrizione di un importante protocollo di intesa stipulato con Conf Cooperativa Federa Abitazione Campania per arricchire l'offerta turistica della parte storica e antica del paese Nuove iniziative del comune di Sant'Arsenio che vanno nella direzione di puntare per lo sviluppo del settore turistico ricettivo sulla suggestiva bellezza e storicità del Borgo Serrone è stato sottoscritto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica un nuovo protocollo con la Conf Cooperativa Federa Abitazione Campania che punta ad individuare nuove opportunità di valorizzazione e promozione dell'area antica riqualificata per renderla area turistica e di ospitalità alberghiera il centro storico di Sant'Arsenio infatti dispone di circa 10 immobili dalle molteplici funzionalità si tratta di strutture che hanno in dotazione tutti i comfort e che sono state progettate e realizzate per rispondere ad ogni esigenza abitativa ma anche per ospitare convention e seminari ora con la convenzione sottoscritta dal comune di Sant'Arsenio con la Conf Cooperativa Federa Abitazione Campania si punta a rendere tali strutture fruttuose per l'economia del territorio un protocollo di intesa corposo che dà margini di manovra elevati che vanno dalla ricerca di finanziamenti in tutte le sedi competenti per la realizzazione di interventi di housing sociale e siamo già ai primi passi con la regione Campania e poi punta alla valorizzazione del territorio che ha ovviamente il riferimento precipuo nel comparto serrone anche attraverso azioni mirate di informazione di sensibilizzazione non solo ma anche di preparazione di formazione di giovani che si volessero cimentare con la gestione diretta dell'offerta turistica attraverso la formazione delle cosiddette cooperative di comunità o la frequentazione di corsi specifici che riguardano la creazione di figure specializzate quindi cerchiamo di seguire una serie di percorsi che mirano nel loro complesso a rendere come dire la funzione specifica del comune più forte e più credibile con una serie di partners che siano tecnicamente come dire del settore che siano pronti e preparati ad affrontare queste nuove sfide ad aderire al progetto ampio ed articolato per la promozione di Borgo Serrone anche la federazione mondiale degli ostelli della gioventù che potrà ancora più arricchire l'offerta turistico ricettiva del Borgo Antico di Sant'Arsenio Ieri pomeriggio presso l'aula magna delle scuole elementari in via Matteotti a sala Consilina si è tenuta la cerimonia di consegna del premio Pino Paladino che quest'anno è andato all'avvocato Eliana Lagamma nell'occasione è stato consegnato un premio all'avvocato Antonio Rienzo Tocadoro per i 50 anni di attività professionale nell'ambito della manifestazione si è anche tenuto l'incontro sull'eco compenso che ha visto come relatore l'avvocato Mauro Vaglio presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma a seguire l'evento per noi Pietro Cusati è grandissima veramente davvero un onore per me aver ricevuto questo premio sia ovviamente perché è un riconoscimento importantissimo all'impegno e alle energie che ho investito finora negli studi e nella formazione professionale ma anche per il valore di questo premio perché è un premio che è intitolato alla memoria dell'avvocato Pino Paladino continuare a ricordare nel tempo l'avvocato Paladino assegnando questo premio abbia un valore formativo enorme per i giovani avvocati come me quindi non soltanto per chi vive l'emozione di vincere questo premio perché significa offrire un modello un modello positivo di comportamento a coloro i quali si accingono a intraprendere il loro percorso professionale è stata una sorpresa è vero che ho compiuto purtroppo manco purtroppo 50 anni di esercizi di professionale sono tanti però non me l'aspettavo questa che oggi nell'occasione di questo premio avrebbero premiato anche me sono stato immensamente sono commosso sono stato e anche mi ha commosso l'applauso sentito e sincero dei colleghi erano solo colleghi quando mi è stata conferita questo riconoscimento e quindi ringrazio il Presidente ringrazio tutti i consiglieri e li ringrazio anche perché non mi hanno detto nulla e quindi ovviamente la sorpresa è stata ancora più gradita si molto interessante e molto emozionante e anche commovente questo premio perché è sentito proprio dagli avvocati di Sala Consilina e di Lago Negro per quanto riguarda il tema dell'incontro del convegno l'eco compenso è una vittoria che hanno raggiunto gli avvocati e i professionisti in genere è un primo passo per riportare dignità e decoro alle nostre professioni innanzitutto per me è stato un onore partecipare alla terza edizione del premio palladino ho partecipato a tutte le tre edizioni ed è sempre emozionante il tema l'eco compenso è un tema importantissimo perché sotto gli occhi di tutti che dalla legge Bessani in poi abbiamo subito una serie di normative che hanno compromesso l'attività professionale quindi con l'eco compenso si spera di dare una dignità all'attività professionale Nella trasmissione di La Sette Gussibus Estate programma condotto da Roberta De Matteise che racconta della cucina italiana domani si parlerà di pizza a farlo un pizzaiolo valdianese Dolo Delio titolare di Strapizza mia sala consigline vincitore di numerosi premi in tutta Italia sarà protagonista con altri colleghi dell'associazione pizzaioli professionisti nella puntata di domani domenica 24 giugno sulla Sette a partire dalle ore 10 e 40 bene termina qui la prima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio a sala consiglina il comune delibera sull'adozione immediata della carta dei diritti della bambina pensata nel rispetto dei principi e dei valori morali sentiamo Antonella Citro premesso che l'associazione federazione italiana donne e arti professioni e affari distretto sud ovest ha inviato al sindaco Francesco Cavallone la richiesta di adozione della nuova carta dei diritti della bambina e preso atto che l'international federation business professional woman organizzazione non governativa presente in 100 paesi nel mondo è rappresentata presso ONU FAO UNESCO ILO OMS UNICEF il comune di Sala Consilina ha deliberato l'adozione della carta la bambina deve essere aiutata protetta fin dalla nascita e formata in modo che possa crescere nella consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri contro ogni forma di discriminazione dice il presidente del consiglio Maria Stabile la carta comprensiva di nuovi articoli deve essere letta come una premessa fondamentale per l'affermazione dei diritti delle donne fin dalla nascita con l'adesione il comune aggiunge uno strumento per favorire azioni a tutela dei minori e della famiglia rappresentando la carta stessa uno strumento per i diritti delle bambine e delle ragazze l'assessore Gelsomina Lombardi sottolinea che la carta dei diritti della bambina è ispirata alla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 non è vincolante dice ma è un'enunciazione di principi di valore morale e civile predisposta per promuovere la parità sostanziale tra i sessi la valorizzazione delle differenze tra bambini e bambine e il superamento degli stereotipi che limitano la libertà di pensiero o di azione in età adulta l'adozione della nuova carta dei diritti della bambina anche da parte di questo comune prosegue rappresenta uno stimolo per sensibilizzare l'opinione pubblica a un'azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere la carta distingue caratteristiche bisogni connotazioni fisiche ed emozionali ed è una premessa per l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne famiglia scuola e comunità devono assumersi responsabilità perché la bambina possa crescere consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri domani a Sanza giornata dedicata al divertimento e alla socializzazione con la festa dei bambini che coinvolgerà anche gli adulti l'appuntamento è alle ore 17 in piazza San Francisco le attività ludico-ricreative organizzate a Sanza non si fermano con l'arrivo dell'estate ma piuttosto si intensificano con i campi estivi l'assessorato alle politiche sociali continua con la promozione di iniziative rivolte a giovani e meno giovani per stimolare la vita sociale e la condivisione di momenti di gioia in gruppo accrescendo così anche il senso di comunità domani domenica 24 giugno a partire dalle ore 17 in piazza San Francesco presso la villa comunale si terrà la festa dei bambini con intrattenimento e giochi bolle di sapone e giocolieri un pomeriggio dedicato al divertimento e all'amicizia che coinvolgerà adulti e bambini tra canti balli e giochi per stimolare l'allegria e che prevede anche uno spettacolo di danza con il saggio realizzato dalla New Dance All Dance sarà anche un crocevia importante che segnerà la fine del primo ciclo di attività promossa dall'assessorato alle politiche sociali per favorire l'integrazione sociale con una particolare attenzione al mondo della disabilità dal pomeriggio e fino a sera la villa comunale sarà quindi il luogo per incontrarsi confrontarsi conoscere e comprendere il mondo dei bambini e degli adolescenti una festa di gioventù che chiude l'esperienza dei laboratori creativi ed apre contestualmente i campi estivi per ragazzi che impegneranno con attività ludiche sportive e culturali i bambini tutti i giorni la mattina e il pomeriggio fino alla fine di agosto nel mentre si sta lavorando anche alla colonia estiva che porterà i bambini per due settimane nel golfo di policastro per godere del mare un programma articolato di servizi offerti alle famiglie dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito il comune di Padura intende ripristinare il parco giochi in via Europa e per farlo chiede ai cittadini di destinare alla causa il 5 per 1000 farlo significherà fanno sapere dall'amministrazione progettare un'area gioco inclusiva che possa permettere ai bambini di condividere gli spazi e allo stesso tempo favorire la socializzazione delle famiglie tra i giochi acquistati una parte sarà dedicata ai bambini che presentano disabilità per favorirne l'inclusione lanciando un percorso di progettazione partecipata e di condivisione del bene comune andiamo avanti ieri pomeriggio presso il centro sociale di Anum a Teggiano si è svolto il convegno politico La Volontà di Crescere che ha visto insieme Comune di Teggiano Comunità Montana Vallodidiano Diocesi di Teggiano Policastro Forum dei Giovani di Teggiano Provincia di Salerno Comune di Sassano e Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni a seguire l'evento per noi c'è da Pietro Cusati Con le istituzioni abbiamo visto noi ragazzi protagonisti di questa iniziativa che io considero e ritengo che sia la rincarnazione di un fermento giovanile che è presente sul nostro territorio che si vuole liberare e vuole sfoderare quello che è lo spirito di iniziativa di noi ragazzi l'abbiamo fatto parlando di diverse tematiche come ad esempio lo sviluppo territoriale parlando di centri storici di parco di natura e soprattutto di quelle che sono anche a livello pratico e tecnico le prospettive per il nostro territorio Penso che su questo territorio c'è tanto da fare uno perché insomma sono dei territori che hanno le carte in regole dove realmente si può parlare di sviluppo turismo e anche perché no anche occupazione si è lavorato nel passato con gli enti sovracomunali e comunali per dare un ruolo a questo territorio ora bisogna solo cogliere i frutti e per questo apprezzo queste ragazze perché finalmente esce pure un vero protagonismo di queste ragazze l'orgoglio soprattutto che questi ragazzi stasera ho potuto constatare personalmente l'orgoglio l'attaccamento a questo territorio complimenti ancora noi siamo a loro disposizione certo sia loro devono diventare i veri protagonisti e i veri proprietari di questo territorio perché il futuro è in mano loro abbiamo appunto portato il nostro contributo a questo tavolo di confronto quello che è il nostro lavoro che portiamo avanti per Sassano in particolare nel centro storico in quanto si parlava di questi recuperi appunto per cercare di arginare un po' quello che è lo spopolamento dei nostri centri storici Lunedì prossimo sarà presentato il progetto sabato alle grotte domenica al museo voluto dalla fondazione Mida In occasione della consolidata iniziativa del Mibact domenica al museo che permette di visitare gratuitamente la prima domenica del mese monumenti musei gallerie scavi archeologici parchi e giardini monumentali dello Stato la fondazione Mida ente gestore delle grotte di Pertosaolette dei musei integrati dell'ambiente ha deciso di lanciare un nuovo progetto denominato sabato alle grotte domenica al museo l'idea nata dalla volontà di offrire soprattutto alle agenzie di viaggio e alle strutture ricettive dell'intero parco nazionale del Cilento Valo di Dianno e Alburni alle tanti proposte turistiche e culturali punta a creare per gli attrattori coinvolti occasioni ulteriori di promozione e programmazione sinergica i particolari di questa iniziativa verranno resi noti nel corso della tavola rotonda di presentazione in programma lunedì prossimo 25 giugno alle 17.30 presso le grotte di Pertosaoletta per l'occasione la fondazione Mida ha invitato a partecipare al tavolo il direttore del parco archeologico di Pestum Gabriel Zuchtriegel la direttrice e la vice direttrice della Certosa di San Lorenzo la dottoressa Emilia Alfinito e Anna Maria Romano il direttore del Museo archeologico nazionale gigante la dottoressa delle Lagi il direttore del Museo archeologico nazionale di Ponte Cagnano la dottoressa Giovanna Scarano e il direttore del Museo archeologico nazionale di Ebole Media Valle del Sele la dottoressa Luigina Tomai per un intervento in merito alle azioni messe in campo per la promozione e valorizzazione delle attrazioni del nostro territorio e in particolare a quelle attività da mettere in rete con le altre emergenze culturali E' tutto per questa edizione vi ringrazio di essere stati con noi vi auguro buona serata Grazie a tutti